Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 a Pisa Nord è chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e la 12. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Mare, rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta e tra Monteriggioni e Badesse in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!